Musica Buongiorno, siamo qui allo stand Govane Italia e Novitis, io sono Luca Sangiorgi di Govane Italia e mi occupo di comunicazione, immagine, pubblicità e attività di questo tipo per noi è la prima volta a Novitis, abbiamo trovato sicuramente un profilo di visitatori molto interessato e molto attivo nel settore della viticoltura, viticoltura che per noi rappresenta sicuramente un settore importante infatti la nostra gamma di fungicidi, insetticidi, erbicidi e agrofarmaci in generale è caratterizzata da molti prodotti studiati appunto per la difesa della vite e abbiamo presentato in questa occasione alcune delle nostre specialità, alcune novità che quest'anno sono entrate a far parte del nostro catalogo parliamo di peronospora, oidio, botrite e anche prodotti rameici di nuova introduzione ad ampio spettro per parlarvi nello specifico delle nostre linee di difesa abbiamo qui anche il collega Tiziano Baldo che è appunto il responsabile tecnico per l'area nord-est e passo a lui la parola grazie Luca, sì come anticipato io sono Tiziano Baldo sono responsabile tecnico per il nord-est, per Gowan lavoro in questa azienda ormai da alcuni anni e da alcuni anni ho il privilegio di sviluppare i nostri prodotti per la difesa vite questi territori sono probabilmente i più interessati dove Gowan ha radicato di più la sua presenza proprio perché quest'area, il Trevigiano ma il nord-est in generale è probabilmente una delle zone a livello nazionale dove alcuni patogeni come peronospora e oidio danno maggior da fare a causa soprattutto dell'andamento sagionale che è particolarmente piovoso ovviamente l'annata 2014 è stata di più semplice gestione rispetto al 2013 dove le forti e abbondanti precipitazioni un clima molto simile a quello sud tropicale hanno fatto sì che le linee di difesa siano state messe a dura prova come anticipato dal collega San Giorgi noi siamo presenti ai Novitis perché facciamo della difesa vite un po' il nostro core business quindi il cuore del nostro catalogo è incentrato alla difesa vite ovviamente la molecola più rappresentativa è la Zoxamide Zoxamide che Gowan commercializza con diversi formulati quindi abbiamo il prodotto in purezza Zoxion 240 SC abbiamo la triplice di peso che è molto impiegata in questi territori soprattutto in fioritura che è l'Electis Trio e in arrivo abbiamo un nuovo formulato a base di Zoxamide di Metamorph che è il Presidium SC che lanceremo nel corso della prossima campagna ovviamente come anticipato da Luca il brand quest'anno si è incrementato grazie a Isagro SPA quindi Gowan ha stretto questo accordo per il completamento catalogo ma anche per dare a questo mondo delle novità ha stretto questo accordo strategico con Isagro SPA e quindi da questa campagna abbiamo potuto completare il catalogo con l'inserimento di un pacchetto rame e con l'inserimento ovviamente di prodotti come Domar che Remediar che sono specialità che sicuramente hanno avuto un impatto molto importante sul mercato nazionale grazie a tutti grazie a tutti